Meteo permettendo, la prossima settimana un imponente chiatta arriverà alla foce del Foglia per caricarsi dei detriti che puntualmente si depositano all'imboccatura del fiume, abbassando nel pescaggio e ostruendo la navigazione di un migliaio di diportisti. Un lavoro finanziato dalla Regione Marche che metterà a disposizione l'utilizzo di un motopontone per liberare la sponda dai detriti, creando un beneficio più duraturo rispetto ai precedenti interventi. Il percorso è sicuramente lungo, complesso, però questo era un problema annoso che cercavo di risolvere sin dai primi mesi dell'insediamento in Regione. Prima ho cercato i soldi, poi siamo riusciti anche tramite un ottimo lavoro da parte del Genio Civile di Pesaro, devo ringraziarli, a fare questo progetto, questo lavoro radicale, che almeno per un po' di anni sicuramente si starà bene. E' un lavoro che va a inserirsi e a dare del beneficio a tantissimi diportisti in attanti del porto di Pesaro. Quindi sono veramente molto contento, adesso entro qualche giorno sicuramente il lavoro inizierà e vedremo sicuramente i benefici di un progetto molto importante da parte della Regione Marche. La chiatta motopontone che preleverà la ghiaia sarà posta sulla sponda a sinistra del fiume e preleverà circa 4.000 metri cubi di detriti che saranno trasportati via camion fino a un deposito temporaneo in via Paganini. Il cantiere durerà 15 giorni per un investimento di 140.000 euro. Una sifra importante, anni passati si riuscìva a operare solamente con qualche migliaio di euro, si facevano delle operazioni veramente poco risolutive, anche perché il materiale veniva riposizionato lì e tornava nuovamente in mare. e quindi sono certo che tantissimi di portirti saranno molto contenti di questa situazione e benvenga, cerchiamo di trovare cose utili per la città di Pesaro.